Sono Mario Grandinetti, direttore del corso universitario di perfezionamento in fiscalità internazionale ed europea dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management. Sin dalla nostra prima edizione, la formula didattica di questo corso è in modalità mista. A fianco a una modalità di erogazione della didattica sulla piattaforma dell'Università degli Studi di Torino, erogheremo alla fine di ogni mese delle lezioni in presenza o a distanza. Le prime tre settimane del corso verranno erogate attraverso la messa a disposizione di una dispensa specifica del modulo formativo di esercitazione di studio e di video e supporto del modulo formativo. Dopo le prime tre settimane erogate completamente sulla piattaforma, l'ultima settimana verrà dedicata invece a un confronto diretto tra i docenti e i partecipanti del corso. Pur essendo consapevoli che la didattica in presenza ha un valore aggiunto ulteriore rispetto a quella erogata sulla piattaforma online, per i mesi di aprile, maggio e giugno, l'ultimo incontro del mese si svolgerà sulla piattaforma del corso. In particolare cambierà la modalità di erogazione e i giorni in cui la didattica verrà erogata, perché verrà erogata di giovedì, venerdì e sabato mattina. Questo in particolare per permettere una maggiore efficacia della didattica erogata online. Il corso universitario di perfezionamento in fiscalità internazionale ed europea può contare su un corpo docente di elevata specializzazione, sia di derivazione accademica, sia di derivazione professionale. L'iscrizione al corso universitario di perfezionamento in fiscalità internazionale ed europea garantirà, oltre che un'approfondita analisi delle principali questioni di fiscalità internazionale, darà anche la possibilità di avere sempre un aggiornamento continuo su queste problematiche e non ultima la possibilità di creare una rete di rapporti e relazioni tra tutti i partecipanti del corso, non solo di quelli di questa edizione, ma anche di quelli della prima edizione. Il corso universitario di perfezionamento in fiscalità internazionale ed europea ha il supporto di studi legali e societari, società di consulenza e aziende a rilevanza internazionale, che anche per quest'anno hanno rinnovato il loro interesse a supportare il nostro progetto formativo. Per la seconda edizione del corso universitario di perfezionamento, in aggiunta rispetto alla prima edizione, i nostri sponsor offriranno delle borse di studio per la frequenza di questo corso. Per tutte le informazioni relative ai requisiti, alle modalità di iscrizione e per gli aggiornamenti sulle nostre iniziative, grazie. Grazie. Grazie.